risponda risponda l'anima degli mortacci tu link di twitter volete che lo apra link di twitter sarà una roba porno sarà una roba porno per eliminare la concorrenza ma apriamolo vediamo il vero villain e ivan cos'è 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 leggo ciccio che me l'ho tantano perché il game è romano ma no ma non vuole ritornare la dittatura si è espresso male e noi pensavamo che madame che ci ha scritto fosse stupida generazioni di fenomeni da baraccone vabbè dai come cazzo se permettono ivan noi questa clip in realtà l'abbiamo messa come intro quando era ieri o l'altro ieri ma tipo due giorni fa perché noi stiamo avanti prevediamo i trend però vabbè ciccio dice che vuole un partito unico si però no però detto no con uno a capo tipo putin obama dice vorrebbe un secondo me putin e obama no si vabbè ovviamente le conoscenze politiche di ciccio sono noti a tutti cioè un grande no e che cazzo teidi è un grandissimo esperto di geopolitica ah nel suo conoscenze nel senso che c'è la conoscenza nell'ambito politico e che cazzo quello non lo so sinceramente però al di là di questo lui secondo me nel suo mondo di unicorni ipotizza una sorta di sovrano illuminato perché poi ha detto per fare il bene degli italiani proprio no un politico che curi al 100% gli interessi degli italiani no ma ha detto che non vuole una persona specifica vuole un partito sì un partito unico perché non un'intelligenza artificiale a questo punto no sì beh perché non checobomba a questo punto perché non lui abbiamo detto intelligenza artificiale eh intelligenza eh comunque io direi possiamo dire a ciccio gamer che deve assolutamente continuare a parlare di politica perché ha delle delle riflessioni delle insight veramente sagge ovvio belle perle ovvio risponda riparietti gli anni l'anima degli mortacci tua ah ah Aaaaaah!